Bene amici, oggi proviamo finalmente a averlo provato a lungo l'LG V30 in versione Plus, cosa cambia poco, solo 128 GB di memoria contro i 64 della versione normale Un bel design, un bel display, anche se a livello di design questo discorso dei borderless sta portando a uniformare ancora una volta gli smartphone Ci ho detto, è un telefono che funziona bene, che è molto fluido, che è molto reattivo, che mi è piaciuto tanto Due, ma il primo sul prezzo, ma ve lo dico alla fine, il secondo ve lo dico in una recensione, scopriamolo insieme Non ho la confezione originale, ma ho la dotazione che consiste nel caricabatterie rapido, carica in un'ora e mezza, esce anche a 9V Solti il cavo dati e queste ottime cuffie di B&O con anche la prima parte del cavo anti-ingarbugliamento Perché è in tessuto, tra l'altro si sentono veramente bene, suonano con dei bassi incredibili E grazie all'equalizzazione, poi ne parlerò a B&O, veramente gran qualità Gommini in-ear, ci saranno in confezione anche dei gommini di ricambio E vi faccio vedere subito l'always on display, con il quale però non si può interagire Vediamo le notifiche, vediamo solamente i simboli delle applicazioni che hanno una notifica da leggere Possiamo fare uno swipe per andare a comandare la musica, anche Spotify, oltre al riproduttore di serie E anche i toggle rapidi, ma non possiamo per esempio andare a leggere una notifica Per farlo, doppio tap, il telefono si accende e ci ha riconosciuto il volto Io non ho premuto il pulsante di sblocco del telefono E tra l'altro, volto che mi è riconosciuto anche quando abbiamo il telefono in stand-by Lì appoggiato magari su un qualsiasi tavolo Lo prendiamo in mano, lo tocchicciamo un po' senza schiacciare nessun tasto Lui automaticamente capisce che l'abbiamo preso in mano Adesso il gesto è stato troppo veloce rispetto a quando l'ho messo sul tavolo Ma si sblocca automaticamente Sempre grazie al riconoscimento del volto Molto veloce, anche se secondo me non sicurissimo Anche se c'è una funzione per aumentare questa sicurezza Però non ci riconosce quando mettiamo gli occhiali, occhiali da sole, eccetera, eccetera, eccetera Dietro abbiamo il sensore dei prodotti digitali Cliccabile perché fa anche da tasto on-off Funziona 10 volte su 10 Poi messo in maniera abbastanza furba Il dito ci arriva e non c'è problema per lo sblocco Flash LED Autofocus laser E doppia camera da 16 megapixel La principale con lenti in vetro f1.6 Poi vi farò vedere come scatta le foto con poca luce E poi la ormai iconica grandangolare di LG Da 120 gradi che scende a 13 megapixel Su questo lato frame completamente in metallo La back cover è in vetro Tra l'altro non vi ho detto che è IP68 Ha superato test di caduta Standard militari Usa 810G Quindi non dovrebbe essere così fragile Io un drop test Sì ve lo dico Glielo ho fatto fare Infatti ho un pochino graffiato qua il bordo E il vetro non si è rotto Scusate amici di LG Qua di fianco alla bozza c'è l'altoparlante sistema Poi vedremo che è abbastanza potente La tipo C Il primo microfono Qua il carrellino per mettere una sim Più una memoria a espandere Nel mio caso 128 GB Perché ho la versione plus Ma normale ne ha 64 GB di memoria Il jack per le cuffie Il primo microfono E qua i pulsanti per il volume Parte anteriore Con un full vision Quindi un telefono veramente con pochi bordi Sia laterali sia sopra e sotto Camera 5 megapixel L'altoparlante Non c'è ovviamente il led di stato Perché c'è l'always on display Però notate una cosa Come la polvere È un telefono che ho usato Per più di una settimana Quindi usato in tasca Ho viaggiato tanto con questo V30 Ma si è un po' infiltrata Tra la scocca e il display Se ve lo spengo Vedete qua come Qua ci sia un gradino abbastanza pronunciato E la polvere un pochino ci si infili dentro Vabbè poco male Basta dargli una passatina con un panno E torna subito pulito Molto bello secondo me Per quanto riguarda la parte frontale Vi parlo un attimino di come funziona Grandi linee GPS molto bene Wi-Fi dual band molto veloce Bluetooth 5.0 Possibilità di condivisione espansa Ovviamente NFC Server multimediale di LNA Chromecast e Mirrorlink LG AirDrive Per andare a scambiare file con PC di LG Tramite anche account di LG Basta scaricarlo su qualsiasi PC Windows E si può scambiare dati molto facilmente Vi faccio vedere le impostazioni generali Con le informazioni sul telefono Software versione 7.1.2 Arriverà sicuramente oreo Non si sa quando Pecci sicurezza Primo settembre del 2017 Torniamo indietro perché vi parlo adesso di autonomia e di display Batteria da 3300 mAh Vi faccio vedere Vediamo dove sono Dove sono gli screenshot Eccoli qua Ho fatto il live batteria di questo telefono C'è stato anche un live Google in mezzo E ho fatto addirittura 6 ore 26 di schermo Con una scarica abbastanza costante Tante chiamate Insomma è un telefono che arriva a sera con il 15-20% di autonomia residua Senza utilizzare nessun tipo di risparmio energetico Che pur c'è Non è molto diciamo No in realtà non è vero che non è molto intelligente Perché ve lo voglio far vedere Andiamo qua Basta cliccare qua sopra Abbiamo due possibilità di risparmio Sia l'esteso che il massimo Esteso banalmente possiamo anche andare a interferire con questa modalità Cambia l'unità massima Modifica il display Sempre attivo o meno Disabilita la vibrazione Limita i dati in background E con questa modalità Pur non castrando tanto il telefono Si riesce ad aumentare molto l'autonomia Poi massimo invece si castra tanto il telefono Ma difficilmente si andrà a utilizzare Vi sto parlando di display Prima di far vedere le immagini test Vi faccio vedere le opportunità che abbiamo Oltre alla possibilità di cambiare i temi Cambiare questi pulsanti anteriori Come su tutti gli LG La risoluzione del display si può impostare Per andare a risparmiare un pochino di batteria Io non ho avuto un grosso risparmio Non ho visto una gran differenza tra una modalità e l'altra Ma il colore del display è possibile Tararlo su 5 diverse tonalità E poi l'always on display Possiamo anche decidere di attivarlo E anche cambiare la luminosità proprio dell'always on Ma andiamo a vedere le immagini di test Vi dicevo 6 pollici OLED Full Vision 2880x1440 pixel La rapporto di forma è 2 a 1 Sì non dico 18 noni ma dico 2 a 1 a questo giro Così tanto è la stessa cosa per chi mastica un pochino di matematica Angol di visione molto molto buoni Uno dei primi LG a montare un OLED E loro sono leader dei pannelli sulle televisioni Non capivo veramente perché non li montassero anche sugli smartphone Luminoso Bei colori Tarabili Ok la polarizzazione Ma gli angoli di visuale soprattutto sul bianco Sono leggermente inferiore alla concorrenza Diventa Tende più all'azzurrino Quando andiamo a angolazioni estreme Rispetto ad altri smartphone con questa tecnologia del display Comunque i colori ben tarati Nel complesso è un display che mi è piaciuto tanto Sotto la luce del sole si vede bene Oltre 700 lux Insomma sicuramente un buon display Vi parlo di interfaccia Come vedete è la classica di LG Se facciamo uno swipe direttamente a destra Smart Bulletin Che però possiamo anche andare a eliminarlo Se non ci piace basta tenere premuto qua Possiamo nell'impostazione della schermata home Andare a decidere un pochino di cose Possiamo anche tornare al vecchio menu con il drawer Se non vogliamo tutte le applicazioni nelle varie schermate Griglia che è tarabile Insomma qua vedete le altre opzioni Se facciamo uno swipe in basso con una mano Andiamo nella ricerca generale Facendo così andiamo nell'utilizzo a una mano Devo dire che non male l'utilizzo a una mano Un telefono che sì è un filo scivoloso Ma neanche esageratamente scivoloso Dietro il vetro fa un buon grip L'ho girato un attimo E mi è capitato qua il logo bio Ecco forse un pochino troppo grande Non mi fa impazzire Ma vabbè bando alle ciance È una mia personalissima opinione A me non piacciono tantissimo i loghi Mi piace invece una cosa Essendo un borderless Quindi bordo molto sottile Magari potrebbe soffrire del fatto Che con Usandolo a una mano Con il polso Noi andiamo a schiacciare dell'icone Involontariamente Questo non succede perché Ha una tecnologia particolare questo display Guardate se io tengo anche la mano Vedete ce l'ho completamente sul display Lo schermo rimane comunque utilizzabile Adesso forse ne ho schiacciato troppa Come zona di pressione Ma difficilmente Grazie a questa tecnologia Si va a premere In maniera casuale Un'icona rispetto al resto del display Quindi mi è piaciuta questa funzionalità Che mi ha permesso di non andare a fare Casini o toccare parte del display In maniera così casuale Andiamo a vedere La parte della velocità Non ha nessun tipo di problema Snapdragon 835 Lo fa volare in qualsiasi situazione Con qualsiasi applicazione Velocità di apertura delle applicazioni Buona in media Con altri prodotti che hanno l'835 Ecco Non è fulminio Come altri smartphone Che puntano quasi tutto sulla velocità Penso a OnePlus 5 Giusto per fare un esempio Ma anche Xiaomi Il Mi Note 3 Mi ha impressionato a quel punto di vista È un telefono sì veloce Allineato con altri Snapdragon 835 Ma non fulminio Qua ovviamente Il multitasking Con la possibilità di Utilizzare due applicazioni Nella stessa schermata Torniamo alla home page Questa settimana e mezzo di utilizzo Ho avuto degli sporadici Ricaricamenti della home page Nulla di particolare Ma io ve lo segnalo Invece che cosa mi è piaciuto E cosa no Mi è piaciuto Il feed della vibrazione Abbastanza Preciso Abbastanza Abbastanza secco Quindi Non è zanzaroso Non mi è piaciuta La tastiera di serie Infatti come vedete L'ho sostituita Con quella stock di Google Perché con la tastiera di serie Facevo un sacco di errori E avevo una sorta di Leggerissimo ritardo Rispetto a quando Premevo sui Sui tasti Il che mi faceva fare Veramente tanti tanti errori Ma Andiamo a parlare di parte Telefonica Perché poi vorrò Dilungarmi un attimo Invece sulla parte Foto Video Chiamo subito il 190 Vi dico che la ricerca in rubrica È la solita di LG Non mi piace Spero che la cambino presto Non è intelligente Non capisce che cosa abbiamo cercato Come ultima ricerca Ma Ragazzi sentite Che volume Il volume dell'altoparlante Posto qua sotto Mono sì Ma è veramente Potentissimo Invece cosa mi ha fatto impazzire La ricezione E la ripresa Di campo Leggermente sotto Altri top di gamma Da questo punto di vista E metto un motorola in alto A questa classifica Ma questo è un filo sotto Anche a S8 Ho fatto una prova comparata Anche a Londra Oltre che a Milano E un pochino meno Tra l'altro Vado a togliere Il risparmio energetico Cancello anche un pochino Di notifiche Se no mi accusate Di dire Ma va piano Perché c'era risparmio energetico No in realtà Le prestazioni Da quel punto di vista Non cambiano Audio Nella capsula auricolare Invece decisamente Molto molto buono E anche il volume È alto Browser web Ve lo faccio vedere subito Ci mettiamo qua Andiamo su Automoto.it Vediamo cosa succede No Siamo in versione mobile Richiediamo la versione desktop Ma cosa volete che succeda Con un 835 Il browser viaggia ben Non ha nessun tipo di problema Anche Real Racing Si carica velocemente Ci mette solamente Tra i 9-10 secondi 8 qualche volta Ma volevo farvi vedere una cosa L'ho avviato proprio per questo Perché Se facciamo uno swipe in alto E facciamo ricomparire i tasti Che vedete Si possono nascondere Abbiamo la possibilità Della modalità Gioco Con Fai una pausa Scatto uno screenshot Oppure Si possono regolare Le Diciamo La risoluzione Il frame rate Del gioco Per andare a migliorare Proprio La qualità Del gaming Torniamo indietro Alla home page E vi parlo finalmente Di parte Multimediale Allora Apro subito la camera Perché qua c'è Tanto da dire Perché da questo punto di vista Mi è piaciuto tantissimo Beh La grande angolare Inutile dire che Secondo me è molto più comoda Della 2x Qua Niente effetto bocchè software C'è un effetto bocchè naturale Vedete Se faccio un primo piano a buzz E scatto la foto Il fondo Poi magari ve la faccio vedere Rimane sfocato Impostazioni Allora Ci sono un sacco di modalità Oltre a quella automatica Molto bella la modalità manuale Per le fotografie Con anche vedete qua L'istogramma Bilanciamento il bianco Autofocus ISO Ma soprattutto Il tempo di scatto Che può andare da Un 3200esimo A addirittura 30 secondi Vedete live La differenza Cosa succede qua sul display La cosa che mi piace tanto Invece sono stati i video manuali Pochi telefoni Hanno la possibilità di Regolare così tanti Parametri nel video Oltre a farmi vedere Qua i V-meter E questo per chi Ha una bestia nera Con l'audio Come me è importante Abbiamo la possibilità Anche di Modificare il guadagno E proprio lo vediamo In base ai V-meter Possiamo andare a Regolare un passa basso E anche un passa alto In maniera da escludere Diciamo Bassi Quando andiamo in discoteca Potrebbero far distorcere tutto Blanciamento del bianco Bella anche la possibilità Di andare in manuale Col fuoco Per fare degli effetti Carini E questi effetti Si possono fare anche Mentre si gira il video Regolazione dell'esposizione Degli ISO E del tempo di scatto Oltre a questo Possibilità di Scattare foto Con le due camere Non è questa Ma è questa Quindi camera anteriore Camera posteriore Non solo foto Ma anche video Non solo i 3 secondi Ma anche più a lungo Istantaneamente Cioè facendo così Si fa una foto Davanti e dietro Un video Che si può far partire Davanti e dietro Oppure facendo così Prima davanti E poi dietro Oltre a questo La possibilità di scattare una foto E guardarla subito Fare una foto Di foto Quindi fare una foto Quadrata Uno a uno Con quattro Quattro foto Modalità cibo Insomma ci sono veramente Delle belle funzionalità E poi Questa funzionalità Che è stata molto Pubblicizzata Da LG Cine Foto Dove possiamo applicare In tempo reale Dei filtri Anche molto pesanti Pensate La capacità di elaborazione Di questo telefono Che riesce a applicare Questi filtri Che di solito In post produzione Richiedono ore e ore Di rendering In quali fa in tempo reale Ovviamente non si possono Cambiare Mentre si gira Una scena Bisogna girare una scena Poi mollare E poi rigirare Se vogliamo utilizzare Altri effetti Ma l'altra cosa Che mi è piaciuta È qua Il point zoom Cos'è il point zoom Ve lo faccio vedere subito Guardate per esempio Io punto La pianta là E quando vado A zoomare Guardate cosa succede No ho sbagliato Devo fare così Tocco là Quando vado a zoomare Guardate la camera Automaticamente Fa questo effetto Cioè va a zoomare Proprio là in fondo E si muove automaticamente Nonostante io tenga Il telefono Assolutamente Fermo Se vado nelle impostazioni Vi faccio vedere come i video Possono essere girati al massimo In 4k Tra l'altro si può decidere La qualità Di compressione Del video Quindi Si riesce ad arrivare Mi sembra fino a 48 megabit Per secondo Il tracking del focus Lo stabilizzatore Dell'immagine Insomma qua vi faccio vedere Le impostazioni Per quanto riguarda Ovviamente I video Ho fatto un tap Indietro Di troppo Mentre per quanto riguarda Le foto Vi faccio vedere subito Come al massimo Si possono scattare Ovviamente a 4 terzi 16 megapixel Perché la camera È proprio a 4 terzi Ci ho detto Torniamo indietro Vi faccio vedere I risultati Degli scatti E andiamo qua Nell'album Classico di LG Partiamo da questa Tamarrissima Macchina Mercedes Che ho trovato A Londra E qua L'utilità Del grandangolo Camera di Londra Piccolissima Letto attaccato Alla parete Questa è la foto Con la normale Questa con la grandangolare E Non questo telefono Ma il G6 È stato comprato Da tanti miei colleghi Dopo che hanno visto Le mie recensioni Colleghi dal punto di vista Architetto Perché Per fare un rilievo Per esempio In una casa Beh Con un telefono normale Sarebbe impossibile Invece con il Con un telefono LG Dotato di grandangolare Si riuscivano a fare foto Anche a stanze Molto Molto piccoline Ma parliamo di foto Con poca luce Questa è una natura morta Un evento Assolutamente top secret Poi Vabbè Lo vedrete Online Tra qualche giorno Ma È stata catturata Molto bene La luce Anche i colori Ma questa foto Mi ha spaventato Guardate qua Situazione Camera Praticamente Oscura Con una scritta Luminosa Molto Molto Luminosa Quindi pochissima luce Quasi zero Guardate che foto È riuscito a scattare Questo Questo V30 Praticamente perfetta Con nessun tipo di Rumore attorno Alla scritta Con una scritta Veramente Nettissima Insomma F1.6 Si vede Invece qua Una Una criticità Di questa camera Che ho notato Fa fatica a gestire I forti contrasti Quando c'è un cielo Molto luminoso E una via In questo caso a Londra Un po' scura Fa fatica L'HDR Migliora tanto Ma con altri smartphone Messi a confronto Beh questa foto Su altri telefoni Sarebbe venuta Più bilanciata Qua invece È dato Troppa priorità Al cielo Luminoso Video Molto bene Ma Vedete Queste sono le clip Che ho scaricato Girate con Con questo V30 Il frame rate Non riesce sempre A essere a 60 frame per secondo Quando c'è poca luce Cala un po' Vedete qua È 49.76 59.98 Con qualche problema Di sincronizzazione Video e audio Se andiamo a Editarlo Qua il mio classico box Devo dire anche qua Si è comportata molto bene La camera a me Sembra veramente una bella foto Con la grande angolare Nonostante l'f sia più alto Comunque la foto Secondo me anche questa È venuta bene Ok Meno bene E con tanta luce Utilizzando un pochino I parametri manuali Secondo me si tirano fuori Veramente dei begli scatti Questo è lo zoom massimo Questo è comoretto Questa è la camera anteriore Che è un po' sottotono Non quando c'è tanta luce Come in questa giornata Dove loro due Da Molfetto Giù di lì Comunque dalla Puglia Mi hanno portato i taralli E sono stato molto felice di ciò Ma con poca luce Scende di qualità Poi magari faccio vedere una foto Macro Venuta molto bene Video Vi dicevo Si possono girare Contemporaneamente Con le due Con le due camere Slow motion 720p Avrei preferito Un full hd Visto la potenza di elaborazione Questa è la foto Che vi dicevo prima Che si può scattare In quattro momenti E poi Aggregarla Video Sì Vi ho parlato prima Delle prestazioni Non vi ho parlato Di come vengono Di come vengono Bella la stabilizzazione Molto buona E molto veloce La messa a fuoco Ottima La cattura Dell'audio Buono lo zoom Insomma Siamo anche qua A livelli di eccellenza Al pari di altri top Video phone Camera phone E basta Avevo promesso Di farvi vedere La foto Eccola qua Mia Con poca luce Con l'anteriore E qua è sottotono Un po' risparmiato Con la camera anteriore Hanno speso tutto Su quella posteriore In LG E poi l'effetto bokeh naturale Di buzz Vedete là in fondo Con lo sfocato Sì vi ho smaronato Con la fotocamera Ma E il velo Vi ho raggiunto Un po' di questo V30 Insieme all'audio Perché Vedete Abbiamo la radio FM E sono pochissimi Top di gamma Che hanno ormai La radio FM Ma soprattutto Qua abbiamo un DAC Veramente Che suona benissimo Lo collego Funziona sia Con l'applicazione Musica E vabbè Adesso No un attimo Vi faccio sentire Prima Moon Dance Dal vivo a voce Andiamo qua Allora Il volume massimo È come vivo a voce Quindi si sente Veramente bene Quando collego Le cuffie Si attacca Il quad DAC E possiamo andare qua A settare Qualche parametro Prima di tutto I profili dell'audio Sono delle equalizzazioni Studiate proprio da B e O E veramente Vanno a migliorare L'audio in cuffia Ottime queste cuffie E poi la possibilità Di addirittura Aumentare o diminuire Il guadagno Lato destro Lato sinistro E utilizzare anche Dei filtri digitali Tra l'altro Quando si collegano le cuffie Automaticamente Il DAC riconosce L'impedenza della cuffia O magari Ci colleghiamo Non so Un amplificatore analogico Viene riconosciuto E automaticamente Il DAC sitara Veramente Un buon Un buon audio Quanto costa Tutto questo Ben di dio Beh Tanto Scusate il taglio Ma la tosse sono Ho cercato di trattenerla Fino adesso Ma non ce l'ho fatta Dicevo Prezzo di cartello Tra i produttori Trend generale In crescita 899 euro Per questo V30 Tanti Ma allineati La concorrenza Telefono che mi è piaciuto Tanto esteticamente Molto bello Anche se Simile a S8 Con cui lo confronterò Tra poco Guardatelo Se questi due telefoni Li guardate qua In parte frontale Un po' di taglio Beh si fa fatica A distinguerli E si stanno un po' allineando Sul bello I telefoni Però si stanno Riallineando Dopo l'esploit di S8 Ci ho detto Niente effetto bokeh Per la camera Ma utilissimo Grandangolo Solo qualche problemino Di gestione Dei contrasti Ma in manuale Si stanno fuori Foto veramente Ottime Uso generale Bene Display Molto bene Qualcosina del software Che non mi fa impazzire Lato telefonico Dove l'ho trovato Leggermente sotto Ad altri top Per ricezione E ripresa di campo Ottima Addirittura Con l'O Della parte audio Poi finalmente La radio FM Manca solo L'altoparlante Stereo Mi sarei piaciuto Però il volume È veramente Molto molto alto Insomma Non so se hai capito Ma questo V30 Mi è piaciuto Mi è piaciuto Meno il prezzo Speriamo nella svalutazione Classica di LG Anche se a questo giro LG ci sta provando A non farli svalutare Subito Vabbè Noi speriamo di sì Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com Un saluto da Un saluto da